Avrebbe fatto fumare hashish al figlio 14enne, un imprenditore bolognese di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo la denuncia della ex moglie. A raccontare tutto alla mamma è stato lo stesso ragazzino. Confcommercio e Confesercenti spiegano le ragioni del loro no alle liberalizzazioni degli orari dei negozi decise dal governo Monti. Anche a Manhattan, dicono i commercianti, si chiude la domenica. Lotta senza quartiere ai furbetti dell'Imu e una campagna informativa per spingere gli inquilini con affitti in nero a denunciare i proprietari sono le iniziative anti-evasione del comune di Bologna. Nessuna preoccupazione sui rischi che l'arrivo a Bologna del presidente napolitano possa essere disturbato dalle proteste degli indignati, lo assicura il prefetto Tranfaglia, è una visita, dice, che onora la città. Si è aperto sulla maestosa scenografia della Turandò di Puccini, il sipario della nuova stagione del Teatro Comunale di Bologna, pubblico delle grandi occasioni in una serata da tutto esaurito. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. Questa sera apriamo con la cronaca, non tanto perché ci sia un fatto di particolare gravità da segnalare, un fatto di sangue, quanto per le modalità di un episodio avvenuto nelle ultime ore a Bologna. È accusato infatti di aver fatto fumare hashish al figlio di soli 14 anni, un imprenditore bolognese di 42 anni arrestato dai carabinieri dopo una denuncia della ex moglie. La donna ha saputo della vicenda dallo stesso ragazzino, tornato a casa sconvolto dopo aver passato alcune ore con il genitore. Allora cerchiamo di capire davvero le incredibili fasi di questo episodio nel servizio di Federico Balletti. Tutto è partito da una denuncia presentata da una donna 38enne che si è presentata alla stazione Carabinieri Bologna molto spaventata perché in sostanza ha visto una sera che il figlio 14enne, minorenne, dopo che era uscito con il padre, dopo pochi minuti è tornato a casa sconvolto con pupille ristrette che faceva fatica a parlare. Quindi la donna a seguito di insistenze ha cercato di sapere cosa fosse successo e il ragazzino ha raccontato di aver fumato uno spinello offertogli proprio dal padre. Proprio così sarebbe stato il padre a fare fumare Ashish al figlio, un ragazzino di 14 anni che aveva portato fuori per quello che doveva essere un semplice aperitivo. L'uomo, un imprenditore bolognese di 42 anni, titolare di una piccola azienda di mobili a Ozzano Emilia, ora è finito agli arresti domiciliari con le accuse di gestione di stupefacenti, aggravata dalla minorità della vittima e continuata perché sarebbe avvenuta in almeno due occasioni. La vicenda è emersa a fine novembre dalla denuncia presentata ai carabinieri dalla madre del ragazzo, una 38enne bolognese che si sta separando dal marito, col quale tuttavia fino a quel momento era in buoni rapporti. Ma quella sera il figlio è rientrato sconvolto dall'aperitivo che avrebbe dovuto fare con il padre. Ha confessato alla mamma di avere fumato uno spinello offerto dallo stesso genitore e che la stessa cosa era successa anche tre giorni prima in un centro commerciale. Le indagini hanno portato già pochi giorni dopo a una perquisizione domiciliare a casa dell'imprenditore. Sono stati trovati circa 5-6 grammi di marijuana e anche tre pistole, due a tamburo e una lancia razzi che l'uomo deteneva illegalmente nella sua abitazione di Ozzano. L'imprenditore ha alle spalle qualche precedente per droga e denunce per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Ora è arrivato il provvedimento di arresti domiciliari firmato dal GIP Alberto Ziroldi che nella sua ordinanza evidenzia l'assoluta gravità del comportamento del padre, privo di ogni remora nell'indurre il figlio all'uso di stupefacenti. E come abbiamo sentito anche il giudice ha sottolineato la particolare gravità di questo caso stigmatizzando il comportamento del genitore. Proprio di questo aspetto abbiamo parlato con uno degli investigatori che ha condotto l'indagine. Sì, un episodio molto grave che fa riflettere molto sul ruolo del genitore che dovrebbe essere colui che dà delle indicazioni positive che ha il figlio per quanto riguarda l'educazione ma che in realtà in questo caso è completamente distorto perché ha fatto sì che effettivamente il figlio cominciasse già in questa età molto molto giovane a 14 anni a consumare sostanze stupefacenti. Anche nella sua ordinanza il GIP evidenzia la gravità del fatto del comportamento di quest'uomo che non aveva nessuna remora nell'indurre proprio il figlio a consumare droga insieme a lui. Sì, anche nell'ordinanza emessa dal GIP Alberto Ziroldi viene stigmatizzato proprio questo ruolo distorto del genitore che effettivamente induce ed offre uno spinello al figlio il quale effettivamente risulta completamente suggestionato quindi viene sottolineata proprio la suggestione paterna a cui il figlio minore non riesce a resistere fumando proprio lo spinello che gli viene offerto dal padre. E su questa vicenda c'è una dichiarazione dell'avvocato che difende l'imprenditore arrestato. Manifesto sorpresa rispetto all'uscita di una notizia su un fatto in relazione al quale non è stata svolta nessun tipo di indagine, afferma il legale, e che si basa solo su una denuncia presentata da una moglie che si trova in una situazione di grave conflitto con il marito. L'avvocato aggiunge che fra i due coniugi c'è una causa di divorzio promossa dal marito e di cui la donna ha avuto notizia 15 giorni prima della denuncia per la vicenda che riguarda appunto la presunta cessione di droga al figlio. Staremo a vedere, adesso cambiamo argomento, Confesercenti e Confcommercio ribadiscono il proprio no alle liberalizzazioni degli orari dei negozi dell'Emilia Romagna. Questa mattina le due associazioni hanno spiegato le ragioni della loro contrarietà al provvedimento del governo e rinnovato l'appello al governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani. Vediamo. Anche nella quinta strada a Manhattan, tempio mondiale dello shopping, i negozi sono chiusi la domenica. Lo dicono i commercianti Emiliano Romagnoli, rappresentati da Confcommercio e Confesercenti opposti alla totale deregulation per gli orari dei negozi stabilita dal governo Monti. Le associazioni spiegano che con l'apertura 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi e domeniche comprese sarà avvantaggiata solo la grande distribuzione. I piccoli negozi saranno costretti a chiudere con problemi sociali perché difficilmente collocabili e sicuramente queste liberalizzazioni che non portano e non porteranno, qualcuno me lo deve spiegare come possono portare, ha dei vantaggi per quanto riguarda un aumento dei consumi. Orari più lunghi non vuol dire più consumi, non vuol dire rilanciare l'economia. C'è anche un altro grosso problema, quello di togliere ai comuni e alle regioni che sono vicini ai cittadini, vicini alle esigenze locali e il governo del territorio. Pensiamo solo a Bologna per quanto riguarda gli orari di vendita di alcolici o di non alcolici e su certe zone con problemi poi di ordine pubblico. Confcommercio e Confesercenti quindi rinnovano l'appello al Presidente dell'Emilia Romagna Vasco Errani a ricorrere alla Corte Costituzionale contro il provvedimento e affinché chieda di correggere la norma al governo. 24 ore al giorno per 365 giorni tutte le domeniche, no non ci stiamo, in tutti i paesi europei ci sono dei limiti alle aperture, peraltro anche in Italia e in Emilia Romagna c'è una normativa molto flessibile. Il mercato è già libero, riteniamo che senza nessuna regola alla fine vinca il più forte, il più forte in questo caso è la grande distribuzione. Lotta senza quartiere ai furbetti del Limo è una campagna informativa per spingere gli inquilini con affitti in nero a denunciare i proprietari. Parte la campagna anti-evasione del Comune di Bologna. Vediamo il servizio di Giuseppe Piloni. Lotta senza quartiere ai furbetti del Limo è una campagna informativa per spingere gli inquilini con affitti in nero a denunciare i proprietari. Prima ancora di varare la manovra lacrime sangue da 70 milioni di euro, il Comune di Bologna mette in campo le misure per fare bottino pieno con le nuove imposte, a partire dagli affitti in nero. Gli affittuari in nero che denunciano i proprietari hanno garantito un contratto da 4 anni più 4 e il pagamento del 10% dell'affitto. Ad esempio per un affitto da 800 euro ne paga solo 80, spiega l'assessore alla casa Riccardo Malagoli. Una novità poco nota e sfruttata ma che l'amministrazione ha tutta l'intenzione di vedere praticata in una città piena di studenti fuorisede che spesso non hanno un contratto in regola. Sicuramente, dice la vice sindaco Silvia Giannini, faremo una campagna di comunicazione anche sul sito del Comune. Ma il Comune ha anche l'intenzione di intensificare i controlli sul regolare pagamento dell'Imu. Faremo il massimo possibile per controllare gli evasori ovunque essi siano, promette la vice sindaco. Però proprio i controlli anti-evasione rischiano di essere meno facili con l'Imu, perché la nuova imposta, a differenza dell'ICI, non considera più il nucleo familiare e mette invece sullo stesso piano sposati e conviventi, considerando l'abitazione abituale. Coppie coniugate o meno che possiedono e risiedono in immobili diversi, spiega la Giannini rispondendo a Michele Facci del PDL al Question Time, possono usufruire delle agevolazioni in termini di minore aliquota e detrazione, a meno che l'amministrazione non sia in grado di dimostrare che alla residenza anagrafica non corrisponde la dimora abituale. E questo non è semplice da dimostrare, neanche attraverso l'incrocio con le bollette, conclude la vice sindaco. Dieci giorni di chiusura per il disco pub Arteria di Vicolo Broglio, a pochi passi dalle Due Torri, nel pieno centro di Bologna. Il provvedimento di sospensione della licenza firmato dal questore Vincenzo Stingone è arrivato dopo che in un recente controllo la polizia ha trovato il locale oltremodo sovraffollato a fronte di una capienza massima di 70 persone indicata sulla licenza. La sera del 13 gennaio all'interno ci sarebbero state 482 persone, cioè quasi sette volte in più del massimo consentito. Nessuna preoccupazione da parte della Prefettura di Bologna sul rischio che la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano possa essere disturbata dalle annunciate proteste degli indignati. È una visita che onora la città, dice il Prefetto Angelo Tranfaglia. Vediamo. Nessuna preoccupazione da parte della Prefettura di Bologna sul rischio che la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in città il 30 gennaio per ricevere una laurea d'onorem e per l'apertura dell'anno accademico possa essere disturbata dalle annunciate proteste degli indignati. Lo ha spiegato il Prefetto Angelo Tranfaglia. Io direi innanzitutto che la visita del Presidente Napolitano che stiamo attendendo è una visita attesa che onora la città e che dai cittadini stessi è attesa con grande ansia e con grande partecipazione. Come sempre ci sarà una grande accoglienza al Presidente Napolitano. Quello a cui lei si riferisce lo stiamo registrando, abbiamo registrato qualche voce come sempre accade in democrazia ma assolutamente nessun tipo di preoccupazione allo Stato. Il programma della visita, spiegato ancora il Prefetto, non è ancora ufficiale ma quanto è dato sapere il Presidente della Repubblica si fermerà quasi due giorni. Oltre che all'Università dove saranno presenti anche due ministri del Governo Monti, Anna Maria Cancellieri, già commissario prefettizio a Bologna e Francesco Profumo, Napolitano sarà a Palazzo Pepoli per visitare il nuovo Museo della Storia di Bologna e al Teatro Comunale dove assisterà a un recital con Lucio Dalla. Inoltre visiterà alcune istituzioni culturali come il Mulino e l'Istituto Gramsci e dovrebbe recarsi anche a Palazzo d'Accursio per un saluto al Consiglio Comunale. E voltiamo decisamente pagina, si è aperta ieri sera la stagione lirica al Teatro Comunale di Bologna, in scena la Turandò di Giacomo Puccini che ha entusiasmato il pubblico, dopo tanto si è rivisto il teatro tutto esaurito. Andiamo a vedere questo servizio. Il sipario del Teatro Comunale per la stagione 2012 si è aperto ieri sera sull'imponente maestosa scenografia della Turandò, l'opera incompiuta di Giacomo Puccini ispirata ad una delle fiabe teatrali più celebri di Carlo Gozzi, drammaturgo teatrale settecentesco. La regia dell'allestimento è firmata da Roberto De Simone, mentre l'orchestra e il coro del Teatro Comunale sono diretti dal maestro Fabio Mastrangelo. A dominare la scena un imponente scalone sovrastato dalle grandi mura della città imperiale che giganteggiano sullo sfondo. Applausi e soddisfazione da parte del pubblico che sembra avere gradito anche la scelta di concludere l'opera con la morte della schiava Liu proprio nel punto in cui il compositore si era fermato. Elegantissimi e molto azzeccati anche i costumi, sul fronte passerella di personalità tutto molto sottotono. C'era il sindaco Virginio Merola ma niente sfarzo, niente personalità della politica nazionale e considerati tempi di crisi nessun fiore sui palchi. Spariti persino i sovratitoli che per molti anni hanno accompagnato le rappresentazioni d'opera della fondazione bolognese. Alla chiusura del sipario comunque tanti applausi e consensi da parte di un pubblico che è tornato al comunale facendo finalmente registrare un tutto esaurito. C'è un'altra notizia di cronaca. Una bolognese di 74 anni è stata rapinata da una coppia di giovani saliti con lei nell'ascensore del suo condominio in via Stalingrado. Quando sono arrivati al secondo piano il ragazzo ha spintonato l'anziana contro la parete dell'ascensore sfilando dalla sua borsa il portafoglio con all'interno circa 200 euro. Poi i due sono fuggiti scendendo le scale a piedi. Un episodio simile era successo anche mercoledì mattina in via Gigli in zona Murri dove una donna di 80 anni era stata derubata del portafogli sempre da una coppia che era salita con lei in ascensore. L'aveva poi distratta chiedendo informazioni su un inquilino del palazzo. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità ma torniamo tra pochissimo. I nuovi studio con Etigi Bologna. Prima di proseguire rivediamo i titoli del nostro telegiornale. Avrebbe fatto fumare hashish al figlio 14enne, un imprenditore bolognese di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo la denuncia dell'ex moglie. Raccontare tutto alla mamma è stato lo stesso ragazzino. Confcommercio e Confesercenti spiegano le ragioni del loro no alle liberalizzazioni degli orari dei negozi decise dal governo Monti. Anche a Manhattan, dicono i commercianti, si chiude la domenica. Lotta senza quartiere ai furbetti del Limo e una campagna informativa per spingere gli inquilini con affitti in nero a denunciare i proprietari sono le iniziative anti-evasione del comune di Bologna. Nessuna preoccupazione sui rischi che l'arrivo a Bologna del presidente napolitano possa essere disturbato dalle proteste degli indignati, lo assicura il prefetto Tranfaglia. È una visita, dice, che onora la città. Si è aperto sulla maestosa scenografia della Turandò di Puccini, il sipario della nuova stagione del teatro comunale di Bologna, pubblico delle grandi occasioni, in una serata da tutto esaurito. Andiamo avanti con il telegiornale. Il prefetto Angelo Tranfaglia ha tracciato il bilancio della mostra dedicata ai presepi d'Italia, mostra allestita a Palazzo Caprara. La mostra ha consentito anche di raccogliere fondi per la ricostruzione della scuola elementare del comune di Rocchettavara, in provincia della Spezia, colpito dall'alluvione dello scorso mese di ottobre. I fondi oggi sono stati consegnati al sindaco Riccardo Barotti. Vediamo allora l'intervista al prefetto di Giuseppe Piloni. Ecco, signor prefetto, qual è il bilancio della mostra dei presepi che ha organizzato qua in prefettura? Si può sintetizzare con un'unica parola, è stato un grande successo. La mostra ha avuto un grande successo, sotto ogni punto di vista. Successo per quanto riguarda il numero dei visitatori, oltre 25 mila, un numero straordinario. Se si pensa che mi è stato detto che addirittura neanche all'inaugurazione del presepe bianco, forse per una settimana ci fu un numero tale, è stato anche un successo perché ancora una volta la casa delle istituzioni, un palazzo delle istituzioni è stato visitato, è stato avvicinato, si è aperto completamente ai cittadini di Bologna e non solo di Bologna. È stato un successo perché ha consentito di poter fare quello che avevamo previsto come beneficenza in favore, solidarietà, in favore di un comune particolarmente colpito dall'alluvione dei mesi scorsi in provincia di La Spezia. Il ricavato infatti della vendita dei cataloghi sarà utilizzato per l'allestimento di una scuola in comune di Porretta Vara e oggi la presenza del sindaco anche è stato un ulteriore momento che ha significato come questo Paese nei momenti critici riesca ad esprimere grande solidarietà e come di ciò sia consapevole è anche uno dei mezzi attraverso i quali ci si conferma nella propria unità e identità. Voltiamo pagina, fino al 30 di gennaio sarà a Bologna il Circo Orfei con uno spettacolo pomeridiano e uno serale. Tanto divertimento per i piccoli con clown, giocolieri trapezisti e non solo, anche per i circensi un momento difficile solo ieri. Infatti il Circo è stato costretto a cancellare lo spettacolo per mancanza di pubblico, ma andiamo a vedere con Simona Iannessa. Come ogni buona tradizione che si rispetti anche quest'inverno torna il Circo Orfei al Parco Nord di Bologna. Gli ingredienti classici ed immancabili per il divertimento dei più piccoli e non solo ci sono tutti e così tra foto con i cuccioli, popcorn e bacchette colorate si alterneranno sulla scena clown, giocolieri, trapezisti, motociclisti spericolati ed anche qualche novità. L'uomo proiettile che si chiama John Taylor è un americano che si fa sparare da questo cannone a una distanza di circa 15 metri sopra un airbag gonfiabile. Diciamo che sono forse fra i primi numeri del Circo, i più antichi, però le nuove generazioni non le hanno viste, quindi abbiamo pensato bene di riproporre un po' delle cose che un tempo facevano clamore. Un globo con quattro motorini che fanno lo spettacolo dentro. Perchè ti piace il circo? Perchè ci sono i pagliacci. Perchè ci sono anche gli animali. Qual è il tuo numero preferito? 11 Perchè mi piace quello che vanno le acrobate. Mi devi solo dire qual è il tuo numero preferito. L'uno. Mi piace il circo perchè mi diverto sempre a guardare gli animali, a fare tutte queste cose. Poi mi piacerebbe anche quando fanno delle prove, queste cose. Qual è il tuo numero preferito? Il 5 Non avevano ben chiaro che cosa fosse il numero da circo. Ci fermiamo la pubblicità, torniamo tra poco. Il nuovo studio con ETG, c'è solo il tempo per rivedere i principali argomenti del nostro telegiornale. Avrebbe fatto fumare Ashish al figlio 14enne, un imprenditore bolognese di 42 anni. E' stato arrestato dai carabinieri dopo la denuncia dell'ex moglie. A raccontare tutto la mamma è stato lo stesso ragazzino. Confcommercio e Confesercenti spiegano le ragioni del loro no alle liberalizzazioni degli orari dei negozi decise dal governo Monti. Anche a Manhattan, dicono i commercianti, si chiude la domenica. Lotta senza quartiere ai furbetti dell'Imu è una campagna informativa per spingere gli inquilini con affitti nero a denunciare i proprietari. Sono le iniziative anti-evasione del comune di Bologna. Nessuna preoccupazione sui rischi che l'arrivo a Bologna del presidente napolitano possa essere disturbato dalle proteste degli invignati, lo assicura il prefetto Tranfaglia, è una visita, dice, che onora la città. Si è aperto sulla maestosa scenografia della Turandò di Puccini il sipario della nuova stagione del Teatro Comunale di Bologna, pubblico delle grandi occasioni, in una serata da tutto esaurito. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a tutti.